Ispezionate e fermate degli autobus istituti scolastici immobili abbandonati nel weekend di controlli interforze che hanno portato all'adozione da parte del questore Paolo Sartori di 11 fogli di via, 20 avvisi orali, 23 ordini di allontanamento dal territorio nazionale e uno straniero serbo irregolare stato espulso e accompagnato alla frontiera. Azione di monitoraggio concentrata a Campomarzo, ai Giardini Salvi, dove solitamente si registra la presenza di soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti, così come in alcuni edifici abbandonati, utilizzati talvolta come bivacchi e punti di incontro tra delinquenti. Controlli mirati fino a tarda notte del sabato, nelle discoteche, nei bar, nelle sale slot, oggetto di segnalazioni ed allarmi da parte di cittadini per problematiche di ordine e sicurezza pubblica, mentre al mattino erano state attenzionate le fermate degli autobus in via Baden-Powell, dove scendono gli studenti, con l'ausilio del cane antidroga della Guardia di Finanza, dove non sono emerse anomalie. Verifica anche nei pressi dei portici della Basilica Palladiana e dei portici pedonali, che da Viale 10 Giugno conducono a Piazzale della Vittoria, dove sono stati identificati numerosi soggetti, anche con precedenti, tutti sono stati sanzionati per la violazione del regolamento di Polizia Urbana, per la situazione di degrado riscontrata dalla Polizia Locale, che ha provveduto inoltre a contattare il Servizio di Nettezza Urbana, che ha ripulito e reso nuovamente fruibile il luogo del passaggio dei pedoni. Infine, le attività della Polizia si sono concentrate nelle vie del centro storico, dove sono stati spezionati una dozzina di locali, pubblici e relativi clienti, dove in particolare sono stati sanzionati un barbiere ed il titolare di una profumeria, risultati sprovvisti di Green Pass.